Uffici e sale di formazione nell'ex centrale di Polizia Municipale in Piazzetta Pescheria è la nuova funzione che l'amministrazione comunale ha previsto per i locali nel cortile di Palazzo Gotico, lo fa sapere la Giunta interpellata da Tele Libertà in merito allo spazio lasciato vuoto dopo la dismissione della stazione dei vigili urbani nell'estate del 2022. Poche settimane dopo l'insediamento infatti il sindaco Katia Tarasconi aveva deciso di chiudere il punto dedicato alle forze dell'ordine che era stato inaugurato dall'ex prima cittadina Patrizia Barbieri qualche anno prima, una decisione motivata dal centrosinistra per cercare di utilizzare gli agenti in più servizi appiedati e meno all'interno degli uffici che però aveva fatto insorgere l'opposizione di centrodestra convinta dell'utilità di un luogo di riferimento e ascolto per la sicurezza in centro storico, fatto sta che ora i locali in Piazzetta Pescheria hanno una nuova funzione, ospitano attualmente il settore Piacenza 2030 che a sua volta si compone di due servizi, raccolta fondi e Piacenza Giovani. I tecnici hanno effettuato minimi lavori di adeguamento per accogliere al meglio i dipendenti, le stanze sono state ritinteggiate e a partire dallo scorso febbraio sono presenti cinque postazioni di lavoro dislocate in due uffici. Nelle prossime settimane inoltre la giunta Tarasconi provvederà ad attivare un ulteriore servizio nell'ex stazione di Polizia Municipale? L'ipotesi più probabile è quella di una sala di formazione per il personale interno.